Allora, il Consiglio di oggi era concentrato su due temi fondamentali e direi anche piuttosto importanti. Sicuramente la questione dell'Africa e sicuramente il quadro finanziario dell'Unione Europea, come verrà speso, in che modo verranno impiegate le risorse. Sull'Africa si è molto riflettuto perché, come sapete, c'è un focus Africa molto importante che tra l'altro l'Italia sostiene fortemente e siamo perfettamente in linea con tutti gli altri paesi europei su questo perché, come sappiamo, l'Africa è il continente del futuro. Anch'io l'ho detto più volte e credo che sull'Africa dovremmo impegnarci moltissimo dal punto di vista dello sviluppo. E a questo proposito, l'altro capitolo che abbiamo discusso oggi è stato proprio quello del quadro finanziario, che è un quadro finanziario naturalmente piuttosto corposo, che prevede 1.300 miliardi, ma di questi, per il Fondo per l'Aiuto Esterno, vanno circa 90 miliardi, dei quali l'Italia proprio si fa promotrice dell'idea che almeno 32 vadano destinati all'Africa subsahariana, proprio per le questioni di sviluppo. Naturalmente, all'interno di tutto questo bisogna riflettere, per esempio, anche sulle migrazioni, che restano un tema assolutamente fondamentale, ma che viene declinato, e oggi l'abbiamo dimostrato tutti e 27, direi, è stato naturalmente declinato su tanti fronti, cioè non soltanto quello della sicurezza, ma soprattutto quello dello sviluppo, cioè del fatto che effettivamente anche nell'ambito delle migrazioni bisogna andare a conoscere e ad affrontare le questioni alle radici, naturalmente, del fenomeno. Senza contare poi che abbiamo ragionato anche, per esempio, sulla questione emergenziale, perché mentre si lavora molto nell'Unione Europea per lo sviluppo, si devono ovviamente anche poi affrontare crisi umanitarie di vario genere, per le quali, per esempio, c'è un fondo di 11 miliardi per il periodo 2021-2027, che sembrano tanti, ma in realtà potrebbero essere aumentati. Quindi la riflessione di oggi è stata estremamente importante e fruttuosa, proprio perché appunto ci ha portato a riflettere sulle questioni fondamentali, cioè quali sono i problemi e come affrontarli, e come riuscire naturalmente a contribuire alla loro risoluzione attraverso l'impegno finanziario. Non se ne è parlato oggi, non ne abbiamo parlato, ma non ne abbiamo parlato, oggi non ne abbiamo parlato.